Allora, è così che va. Vi svegliate e guardate la tv. Prendete l'auto e ascoltate la radio. Andate al vostro insignificante lavoro o alla vostra ridicola scuola, ma non ne sentirete parlare nel notiziario delle sei. Perché? Perché non fate notizia. Poi tornate a casa e accendete di nuovo la tv. O magari è la sera che uscite e andate a vedere un film. Ci pensate? È pazzesco che per metà del tempo le persone in tv, quelle che si vedono in tv, stiano a guardare la tv. E tutte quelle persone cosa guardano? Persone come me. Insomma, che state facendo adesso? Se non guardare me. Non pensate che avreste già cambiato canale se avessi solo preso ottimo in geometria? Non pensate che avessi solo preso a guardare. Perfetto, grazie a me. E a me. Il tuo cuore è venuto, e il tuo cuore è venuto, e il tuo cuore è venuto, Gesù Cristo, il tuo cuore è venuto. Mamma, io e Kevin giochiamo al rapimento di Natale. Kevin! Kevin è mio amico, tu sei mio amico. Toglieti, Siri, dammi una soda. No, non questa piccola deficiente, portami quella rossa. Ehi! Che c'è? Grazie, Siri, ho una gran sete. Ehi, vuoi sapere un segreto? Avvicinati. Lo sai che altro ha sete, no? Il mostro aspira tutto! Smettila! Ciao, truppa! Papà! Oh, ho visto che albero... Ehi, Kevin, dammi una mano. Sì, certo! Oh!